Oggi è stato presentato al mondo del fitness, ma soprattutto al mondo di HIIT, quello che rappresenterà il futuro dell'educational di HIIT program, il concetto ipossico, lavorare in ipossia, allenarsi in alta quota, quindi riportare la montagna a 360 gradi, quindi rivivendo anche la nostra alta quota. E tutto questo oggi è qui per riportare alla vetrina più grande del mondo del fitness l'evento storia, legato alla storia, quindi 150 anni di Made in Italy d'Italia per 150 max runner per la storia. Ci permette di raggiungere quella reattività mentale, lucidità e profonda concentrazione che abbinata alla reattività e alla forza fisica permettono marce e marce in più nella nostra vitalità di base. Noi lavoriamo molto sul concetto di wellness, cerchiamo di portare lo sport nelle palestre come attività semplice e sana. E questo stiamo cercando di farlo non soltanto in Italia, ci stiamo riuscendo anche nel mondo. È il primo programma e attrezzo per allenamenti di gruppo Made in Italy che viene esportato anche all'estero ed è arrivato anche negli Stati Uniti, in Russia, in Israele, in mezzo a Europa. E siamo veramente orgogliosi di essere italiani e di aver portato il nostro Made in Italy all'estero. E speriamo che tutti riescano a partecipare del nostro orgoglio italiano. Grazie a tutti.